Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del Collegio 6, seconda puntata, ecco la new entry, vediamo di chi si tratta. E' andata in onda la seconda puntata del Collegio 6 e la puntata si apre con una sorpresa per tutti gli allievi, ovvero l'arrivo di una nuova collegiale pronta a sostituire il posto di Sveva che ha volutamente abbandonato il programma per non tagliarsi i capelli. L'aspirante allieva fa il suo ingresso in cortile sotto lo sguardo curioso e attento degli altri collegiali. Lei è Matilde Ricorda, viene dalla provincia di Piacenza e si definisce una grande festagliola. Il suo ingresso attira subito l'attenzione dei maschietti della classe che la trovano bellissima. Non è la stessa impressione per le ragazze che, di fronte alle reazioni dei ragazzi, rimangono dubbiose e anche un po' gelose. L'arrivo di Matilde scaltena subito gli animi nella classe e infatti la nuova allieva è particolarmente scatenata e poco desiderosa di seguire le lezioni. E per questo trascina alcuni dei suoi compagni che finiscono poi in punizione. A quel punto il preside li punisce negando loro la possibilità di telefonare a casa nella prossima settimana. Per Matilde invece la punizione è più ardua. Lei infatti deve imparare a memoria le osse dello scheletro in inglese che ha rubato dalla classe e portato via. Sembra che la nuova alunna darà filo da torcere ai professori. E voi? Che cosa ne pensate di questa nuova allieva? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video. Se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jorette. Grazie a tutti.